Sono iniziati oggi i saldi in Toscana. Per le vie del centro a Firenze c'è già chi sta facendo acquisti, ma la spesa sarà in linea con l'anno precedente. Non si spenderà molto, colpa della crisi che ancora morde. Sì, in realtà già ho misurato un paio di scarpe e lo acquisterò sicuramente. Quanto pensi di spendere per questi saldi? In media quanto spendi? Abbastanza, ma questo in generale. Pensa che ci sia la crisi? Qual è il sentore di voi commercianti? Che la gente non c'è soldi e vuole risparmiare, vuole le cose belle a poco prezzo e non può essere. Che sensazione ha? Le persone vogliono spendere, non vogliono spendere? No, le persone non vogliono spendere. Tutti si lamentano che non ci sono soldi, che non è che si è lavorato tanto. Speriamo che quello che c'è stato sia stato l'ultimo e che possiamo veramente tutti quanti ricominciare una vita normale, se si può definirla così. Ma la voglia di comprare anche un semplice capo c'è. Io direi tra i 50 e i 100 euro, i 150 massimo, massimo, abbastanza ridotto. Io non ho grandi ingressi in questo momento, quindi non posso permettermi grandi cifre. In altri tempi avrei speso molto di più. No, no. 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 No.